E ragazzi andiamo ad aprire FIFA 15 con un po' di swag Oh mio dio hanno cambiato... non era mica a destra il gioco? Non me lo ricordo! Comunque come potete ben vedere è arrivato FIFA 15 che noi andremo a prendere... Andremo a prendere... no 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 non leggiamo neanche il liberato di istruzioni Andiamo ad accendere il nostro Xbox Andiamo a togliere il nostro disco E andiamo a mettere... nel... non mi viene il nome... l'avete capito? BOOM! Potente appara ragazzi! Qua Vaxlogic, oh my god, ci sono da sole Sono qui a presentarvi come avrete potuto ben vedere Un video veramente speciale e particolare Perché infatti questo qua è il mio primo vero video su FIFA 15 Perché cosa è successo? Oggi 24 settembre del 2014 è uscito FIFA 15 Se non mi sbaglio un bel po' di gente se l'aveva data da ieri E poca gente addirittura dall'altro ieri Io ce l'ho avuto oggi perché ieri e l'altro ieri dovevo studiare un fottio E anche se devo farlo anche oggi però tranquo è uscito FIFA, chi se ne frega E... è la prima volta che appunto lo accendo Vabbè avevo giocato alla... all'access Diciamo all'IE access Però questo qua è il vero FIFA quindi vero video di FIFA Quindi ragazzi Detto questo Ci si sente perché adesso mi sa che devi scaricare un po' di cose e cose varie Ah poi ragazzi eccoci qua Starete vedendo il mio grandissimo rateo Però dovete sapere che In due delle quattro partite Sono uscito O meglio In una sono uscito io di proposito E nell'altra mi ha buttato fuori E una delle quattro Quindi potevo essere addirittura 4-2-1 Cosa è successo? È successo che volevo chiudere il Kinect perché stavo registrando Cosa è successo? È successo che Con l'IE access Se si cambiava diciamo applicazione il gioco si chiudeva Quindi si è chiuso E mi ha buttato direttamente fuori Comunque andiamo a disputare questa nostra prima partita Sul vero FIFA 15 Ora mi dà un po' fastidio Che appunto dovrò riniziare nel senso Iniziare con quel rato che fa abbastanza schifo Infatti andrò ad eliminare il club molto probabilmente E poi adesso non vi sto facendo vedere la squadra Anzi la vedrete sicuramente in partita Perché adesso andrò a fare come ho detto È la prima partita Però non ve la faccio vedere perché Ci tengo a portare un pack opening Dato che è una squadra abbastanza bella Che ho inventato tutta io Quindi il top Il top dei top Ah poi ragazzi Intanto che abbiamo trovato uno sfidante Vi volevo far vedere che Non so se si vede Ho la bella ginocchiera Adesso faccio il mega vittimone No Eeeh Ho dei problemi alla gamba mi sa Sabato ho la risonanza Speriamo che non sia niente di grave Ma speriamo ovviamente Comunque questa è quella squadra del mio avversario È la prima partita che vi porto In tutto il FIFA 15 Perché anche tipo degli access Delle 6 ore Ne ho utilizzate due due e mezza Una cosa un po' strana Eeeh in 4 giorni Quindi Prima partita che andrò a disputare Con voi su YouTube Su FIFA 15 Il contrario Su FIFA 15 Con voi su YouTube E poi prima partita in generale Di FIFA 15 E ragazzi dovete sapere che Se io perderò questa partita Sarà proprio una sconfitta A livello personale Io la prima partita di FIFA Devo vincere Cioè è proprio Un qualcosa Di prescindere Deciso a prescindere Ecco Palla per Ramos 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 Boom Madonna la botta Ci va vicino Ci va vicinissimo Cioè Lucano che è un toro No è bravo È bravo E si parte E si lancia Ramos Boom Adrian 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 Di violenza No non segna Metto il cappello perché voglio fare figo Ci sono No oggi farebbe altrimenti freddo Intanto La bestia Bello Va bene Va bene E non mi fregna Mi ha fregato Madonna Vincenzo Gross Royce Rolls Royce La macchina E la bestia E Ramos E la violenza di Ramos Che fa sentire la terza gamba No Ho sbagliato Oddio E il calcio di No Io devo vincerla Questa partita Non perderla Dai Dai Di qua Di là Di qua Di là Su Giù Dai Dai Sei pronto Sì Ahah Ahah E Figlio di Cagna 1-0 per lui E inizia malissimo Perché mi ha già buttato fuori Mi ha buttato fuori Ragazzi Non essendo finita Non la conto buona Però è già È assurdo Che è la prima partita del vero Fino si buttano già fuori Comunque Nuo avversario Rosario Junior Questo spero che non sia forte Però Bale Abale Hedgehog Va Oh my god E ora si riparte Oddio ma ancora Questo cadde si rialza Oddio Oddio Si è caduto Ma porca Trovia che passaggio E va E va Incredibile È fortissimo E c'è il gol E c'è il gol Pensavo Che si prese Traversa E ci portiamo in vantaggio Con la bestia Chicaui Comunque ragazzi Vi volevo dire Di non stare qua A vedere tutti i giocatori Dato che domani Uscirà uno Bello Il mio primo squad builder Di viva 15 Che ovviamente La telecronica È sempre a posto Ma sempre Oh mio dio Ramos Con la terza gamba Oddio Chicaui Calcio di rigore Calcio di rigore Super nonno abbiati Contro Adrian Ramos Vediamo Vediamo E c'è il gol 1-2-1 Buono Dai E tu Dai Dai Via Incredibile Infermabile Adrian Ramos Che fa un grandissimo gol E si porta in vantaggio Ho sputato un bambino 3-1 Buono Dai Oh per la miseria No Bella madonna Gran bel gol Gran bel gol Sì sì No Ho errato 3-3 Io devo vincerla Devo vincerla Guardate un attimo Chicaui Chicaui E va con il secondo Guardate che non si ferma Terzo E avanza Oddio Oddio Boom Che gol Non bellissimo Ma che bel gol 4-3 Ci riportiamo subito in vantaggio Buonissimo Applausi per noi Gli arbitri fischiano 7 anni dopo L'azione finisce 3 volte Bravo Oddio non molla Ed è finita Ce l'abbiamo fatta E ce l'abbiamo fatta E ce l'abbiamo fatta E abbiamo vinto ragazzi Ai amici Ai amici Quindi Siamo andati bene Per la prima partita Per questo Non lo chiamo episodio Perché è stato proprio Il mio primo Vero video Su FIFA 15 È tutto Domani Usciranno squad builder Tra 3 giorni Punterò a farvi uscire Che cosa Access Rottoglory Episodio 1 E tra 5 Come fare i crediti O meglio Rottua Milano Episodio 2 Fatemi sapere se questa scaletta Va bene Quindi mi raccomando Lasciate un bel mi piace Ne chiedo 2500 Perché questo era un video Anche abbastanza easy Anzi no Perché vi volevo ricordare Di passare dal secondo canale Che da Oggi O forse domani Inizierò la serie Pago of the day Anzi domani Oddio Domani dato che Uscirò Stavo per vomitare Dato che ufficialmente FIFA esce domani Quindi detto questo Io vi saluto E vi dico Buona tenda Paola Nel prossimo video Bolla